Siamo a 12 partite giocate, siamo terzi in classifica e in questo momento di pausa è giunto il momento di tirare un po' di somme insieme. C'è chi crede che la fine si avvicina. C'è chi ci vede già in Serie A. Vincere, l'importante è vincere. C'è più di uno che vuole mandare via l'allenatore. Una cosa nuova. E' un'altra cosa che andiamo in Serie A, scarsissima. Sottisfatto. Voglio dire una cosa, è stravacatù. Non mi vergogni di salire con l'Antonio. L'Antonio, vattene! C'è chi in attacco ha già i propri beniamini. E' un'altra cosa che si è andata con la solidarietà del 1-1, si chiama Bocalò. E' un'altra cosa che si è stravacatù. Voglio dire una cosa, è stravacatù. C'è poi chi festeggia sulle ceneri del nemico e dei suoi regali. Di tacchio, di tacchio. Grazie, grazie Avellino. Grazie Avellino. Sto piangendo ancora, piangono ancora. Di tacchio e Migliorini, grazie. E delle sue partite con il latte condensato, scremato, dolce, amaro. Non ricordo neanche più. Voglio dire una cosa, è stravacatù. E se finora vi siete sentiti molto confusi e spaisati, non vi preoccupate. I misteri più grandi dell'universo. Esistono gli alieni? Chi sono gli illuminati? C'è vita su Marte? Ma soprattutto... A che serve? Sto disfatti. Voglio dire una cosa, è stravacatù.